Non sai mai come gioca, ormai è anche più carenda. Allora ho detto che ho un problema di salute tramite il favore che non ce la faccio. Mi devo dare capire di quello studio che ho un po' utile, tranne di così. Allora ho detto che ho un po' di campione, una cosa che mi tengo particolarmente. Ho la passione, ho il mio sabato, dovevo giocare che avevo da 10 anni. Il nostro bisogno è migliore. La domanda è una squadra di giocatori, è che la prima parte sia un po' utile. Compone e anche i due vedi, il nostro bisogno è possibile avviare un po' utile. Ed è stato un po' utile, tutti i due vedi. Sono un po' utile. Allora ho detto, non sono delle cose che non sono le dico. E poi ragazzo il bisogno è venuto in una condizione di qualsiasi. Per faro il bisogno è venuto in relazione. L'hanno rotto. 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 L'hanno rotto.